C'è ovviamente un giudizio positivo sul decreto sulla governance che era stato oggetto di una serie di approfondimenti e la posizione della conferenza delle regioni è stata accolta e abbiamo potuto constatare con grande convinzione quindi le regioni svolgeranno anche nel Recovery Fund quel ruolo di programmazione e di coordinamento che la Costituzione prevede in connessione tra il governo e con i comuni e quindi questo insieme attraverso il quale lo Stato si presenta a questa sfida importante ci ha tranquillizzato e credo sia la garanzia anche per coordinare tutti gli investimenti che sono in corso sul territorio che sono quasi totalmente di competenza delle regioni che devono essere coordinati con il Recovery Fund perché il Recovery Fund è una cosa che è arrivata in più e adesso, c'è in corso tantissimo e le cose non possono andare in contraddizione questo decreto era sacrosanto, abbiamo potuto constatare che il Presidente del Consiglio è anche lui molto soddisfatto di quel decreto che probabilmente verrà anche aggiustato un po' in Parlamento ma su questioni di dettaglio, non su questioni centrali la cosa più importante è che la conferenza delle regioni lavora in grande cordialità, all'unanimità questo lo dico perché ogni volta che mi incontrano con un esponente della Lega, almeno nel mio territorio sembra che io faccia chissà quale strana operazione io e Massimiliano lavoriamo insieme e quindi lo dico per la mia parte politica c'è un equilibrio interno alla conferenza delle regioni che ci tranquillizza e ci rende orgogliosi di far parte di questo organismo